eccoci qua stamattina perché mattina via dobbiamo deciderlo abbiamo un po avuto dei dubbi con pietro o grande perché pietro pratica io ti sto rubando il mestiere si esatto solitamente sono io che faccio le interviste essendo giornalista invece oggi ho lasciato questo ingrato compito a te ma mi metti ansia fa così però alla fine come tu mi insegni più è spontanea più è divertente esatto ovviamente sarai un esperto di interviste a caldo gente trafilata e magari appena sbagliato un tiro decisivo si sono molto più arrabbiati diciamo così e intrattabile ecco perché tu ci racconti di cosa giornalista di che ambito se sono giornalista sportivo mi occupo principalmente di pallacanestro che è la mia grande passione fin da quando sono bambino e di ciclismo che invece è una passione più recente solitamente mi occupo di questi due ambiti sportivi con l'obiettivo ovviamente di crescere e anche per questo per crescere vengo da te nicola è proprio così senti ha mai fatto hai fatto il giro d'italia l'edizione due giri d'italia gli ultimi due uno da addetto stampa della villi artistina sella italia con il mio compagno di viaggio valerio bianco e anche come giornalista per radio monte carlo sport l'ultimo invece quello 2018 bellissimo tra l'altro l'ho seguito per radio sportiva come inviato di radio sportiva e con bidon ciclismo allo stato liquido che è un gruppo di scrittura con cui collaboro bellissimo bellissimo e attualmente cosa cosa segui di cosa ti occupi allora sono tornato alla mia vecchia passione ovvero quella delle telecronache qualcuno dice sia bravo io mi fido tant'è che io sottoscrivo tant'è che sono stato scritturato come collaboratore di eurosport italia quindi faccio le telecronache per eurosport e collaboro con il corriere della sera quello non faccio le telecronache ma scrivo per il dorso di brescia del corriere della sera va bene dai mi arrendo cambiamoci di ruolo che voce fuori campo perché io sono più bravo a fare le interviste attuale giustamente vengo e vengo dalla sua parte quindi come quando ha iniziato a allenarti e nello specifico a fare crossfit con me e con noi qui da crossfit pistoia ho iniziato con te e di questo sono felice perché ovviamente ho trovato in te una persona disponibile che alla parte ovviamente fisica allena anche la parte mentale musicale lo sai che essendo grande appassionato di musica sto attento anche a queste cose quindi a crossfit pistoia trovo un ambiente che mi piace che mi allena che mi stimola soprattutto iniziato due anni fa sono tornato quest'anno molto volentieri spero ovviamente di continuare quindi se tu dici io vi consiglierei altro che per le playlist sì anche per le playlist quindi se volete unire l'allenamento fisico a quello uditorio vi consiglio di venire qui buono che tieni conto che nel mondo del fitness ci sono alcune leggi non scritte la prima dice mettete sempre musica generalista per non scontentare nessuno ecco qui invece è un po diverso si accontenta tutti i gusti però nicola è disponibile anche a cambiare ovviamente ho fatto una scelta eretica e quindi passo dai gruppi finlandesi alla musica da giostrai certo chiaro perfetto senti quali sono le sensazioni più importanti sia a livello fisico che anche emotivo che riporti a casa dopo una sessione d'allenamento qui da noi quella principale che pur essendo stanco morto perché chiaramente con nicola si lavora bene ma duramente è il benessere fisico che provo dopo ma anche la soddisfazione personale perché tornare ogni volta in palestra e vedere migliorarsi i propri personali record ma anche pensare a com'era la prima volta che sei arrivato e pensare a tutti i miglioramenti che hai fatto questo è il beneficio principale quindi oltre dal punto di vista fisico che è evidente la mia soddisfazione principale è proprio quella di continuare aver voglia di tornare per migliorarsi sempre di più perfetto senti prima tu mai parlato di una delle due due passioni sia personali che professionali è il ciclismo ora andiamo verso una stagione il cosiddetto off season per ciclisti esatto fermi no quindi consiglieresti a un ciclista sia che sia un amatore un professionista o semplicemente una persona deve fare una sgambata con gli amici quando le giornate accorciano per il susseguirsi delle stagioni poi diventa più freddo piove la bicicletta non si può le sporcare certo bisogna lavarla sempre ricordatevelo bravo potrebbe essere una soluzione per mantenere il proprio condizionamento fisico fare un allenamento come quello che proponiamo qui da crossfit pistoia assolutamente sì credo che l'alternativa sia valida mantenersi in forma non solo pedalando ma anche mantenendo il corpo in forma le altre parti del corpo si sa è un tutt'uno quindi non bastano solo le gambe non basta solo il fiato ma anche il cuore e io penso che allenarsi qui in palestra anche per dal punto di vista cardiovascolare sia molto importante ottimo senti come stiamo sforando i tempi con me sempre così purtroppo ovviamente io non devo mandare la pubblicità ma non interrompere neanche la soglia d'attenzione delle persone ti volevo chiedere qual era per per te il lo sto chiedendo un pochino a tutte le persone che che intervisto l'obiettivo per la soglia psicologia del 2020 ovvero sia il 2020 come se fosse un ipotetica anche per te road to tokyo certo delle tue olimpiadi personali quindi per te qual è il target l'obiettivo risultato che vorresti realizzare il tuo 2020 bene arrivare a tokyo 2020 sicuramente come telecronista per quanto riguarda l'allenamento in palestra qui ci sono tanti bei cartelloni con scritti record beh io non mi accontento voglio migliorarli tutti quindi tutte le alzate olimpiche sperando poi magari di commentarle ed essere più preparato anche dal punto di vista fisico grandissimo infatti una se una sensazione che devi raccontare a un pubblico prima di tutto la devi provare esatto sì quindi col ciclismo essendo un ciclista amatore posso raccontarla perché no magari ci sono ottimi telecronisti di sollevamento pesa euro sport però una competizione è il mio forte fantastico benissimo allora ti faccio tre brevissime domande e poi ti ringrazio e ti saluto quindi rispetto alle tue aspettative iniziali siamo stati all'altezza sì perfetto continuerai ad allenarti con noi ovviamente sì benissimo lo consiglieresti amici o persone a cui tieni ma certo che sì benissimo allora ringraziamo pietro pisaneschi il nostro professionista e usurpato dal suo ruolo dal mio classico violento intervento e ovviamente nel 2020 guardiamo se l'obiettivo lo abbiamo sia professionale che personale siamo riusciti a a capirlo benissimo grande saluto da nicola foci fuori campo e da da pietro pisaneschi la più cordiale buonasera ho anche il gesto spettacolare grazie ciao